no no la sera a finire allora poi quando ci c'è 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 un gruppo parrocciare col gian paolo qui ma io gli ho un dico a me ma caseguinta vanno bene con miei ma facendo male il scorno pur che si porta sempre mamma state fuori ma io posso stare fuori ma mamma mia che cosa faccio qui e che cosa succede qua l'apposto però che è bello come qui no ecco te li ho un po' tutti secati non è che potete infilare no 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 non mi dico altro che non voglio conosci adesso non ci spiega un po' si io non riesco proprio a sapere ma che dico avuto a questo? non è meno male che ci sono io con il piede in zona, prima pallina, ma vedi un po' si entri, fai chi vorrei a fare lui? chi vorrei a fare lui? aiuto! ti sei rupi mai tardi! chi vorrei a fare lui? 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 ci mi aspettavo di vaccine un po' si, no, sentavo di alive si, ne antenna, cosi c'è mucha ecco tu, vuoi si è passeggiati qui? è una nonna su ma è vero? si, si e allora'. chi vu? ora la resta, ora dove ha bisogno, un delante, un delante, guarda che muri a volte senti via come sento io e mica buttami dei giacoli, che animale? Vada, Caterina, vada, c'è il boi a mia oggi, mi vede l'infarto, che ti mo' di la sala do marito ma qua? fine, vada, come era la sala da manca aberta no? allora ci sono Non c'è mai sceso, non c'è un'altra cosa. Siamo dove? È un'altra cosa. Cosa? Oc, c'è avaneremo così qua. Mi accupo è durata! E' un primo segnalo, non c'è un bel suo! Se dice fai untipino! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.